la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno, ben trovati con l'appuntamento con la rassegna stampa di Uno News sfogliamo le pagine del quotidiano il mattino dalla prima pagina si parla dei roghi che si stanno un po' verificando in tutta la campagna ma soprattutto il mattino si dedica ai roghi che stanno distruggendo la vegetazione del Vesuvio vediamo infatti il titolo, il parco del Vesuvio non c'è più 100 ettari distrutti ma le fiamme non si fermano, Galletti subito l'esercito questo è il tema principale, vediamo altri sfollati, paura Ercolano e Ottaviano il Canadair a lavoro per isolare le discariche a rischio andiamo avanti, altro tema principale che troverete questa mattina sulle pagine del quotidiano il mattino è gli sbarchi dei migranti perché è in arrivo un nuovo sbarco a Salerno intanto si parla anche con l'Unione Europea la Francia si tira indietro per quanto riguarda il sostegno all'Italia nell'accoglienza ai migranti vediamo il titolo, migranti, il vertice delle belle parole il sondaggio, intanto lo Ius Soli, italiani contrari da Macron a Merkel, un'inutile solidarietà e poi l'analisi, unità nazionale, buone alleanze è quello che manca per farci sentire andiamo avanti sempre di fondo la tempesta torna sul governo Renzi-Lette, il vecchio scontro il centro-sinistra del futuro andiamo a centro-pagine invece parliamo di sport tornano in campo le squadre di calcio della Serie A iniziano anche gli allenamenti per la Salernitana, per la Serie B intanto ieri la prima amichevole del Napoli che termina con il risultato di 17-0 vediamo il titolo il Napoli riparte da 17 Mertens e Milik danno spettacolo l'attacco stellare del Napoli soprattutto Mertens e Milik riparte a 1000 Sarri quest'anno avrà l'imbarazzo della scelta ieri Goleada contro la bassa Anaunia 17 reti degli Alzurri mentre nessuno ha subita in Porta comunque non c'era Reina andiamo avanti di taglio basso vaccini per i medici e i prof non c'è obbligo mancano i fondi e scoppia il caso intesa governo Forza Italia correggeremo e poi Bagnoli l'accordo arriva dopo l'ultimatum De Vincenti e De Magistris basta bizantinismi poi la telefonata e il disgelo queste sono le principali notizie per il quotidiano e il mattino abbiamo quindi sfogliato la prima pagina del quotidiano ora andiamo ad approfondire alcuni di questi temi che abbiamo appena evidenziato partiamo dalla pagina dedicata ai roghi in particolare si parla dei roghi che hanno distrutto il parco del Vesuvio con centinaia di ettari lo abbiamo visto centinaia di ettari di vegetazione andata bruciata roghi che si ipotizza siano di natura dolosa anche perché pare sia stato già individuato un piromane e vediamo che intanto anche il ministro interviene sulle vicende vediamo il ministro dell'ambiente Galletti che annuncia l'arrivo dell'esercito pene severissime per i piromani tre procure al lavoro le piste abusivismo e mercato di rimboschimento questi potrebbero essere i motivi che hanno indotto i piromani quindi a dare fuoco al vesuvio alla vegetazione del parco del vesuvio vediamo gli inneschi ne sono stati attivati otto in zone differenti del vulcano ma tutti insieme il ministro dell'ambiente vediamo in questa immagine con il generale Costa ieri a Ottaviano proprio per discutere di queste vicende che interessano i roghi e che hanno distrutto quindi centinaia di ettari di vegetazione l'accusa e PM di torre annunziata Napoli e Nola confermano la natura dolosa dei roghi e poi vediamo qui le immagini del vesuvio e delle fiamme che stanno distruggendo la vegetazione insomma è comunque una vicenda che sta interessando tutta la campagna perché ricordiamo che anche il Vallo di Diano continua a bruciare con diversi roghi che stanno distruggendo ettari di vegetazione e peraltro provocano il rischio anche serio di sesto idrogeologico ma lasciamo il tema legato agli incendi boschivi andiamo invece sull'altro tema che abbiamo visto anche questo dalla prima pagina si torna a parlare della questione migranti intanto Salerno si prepara ad un nuovo sbarco ma vediamo che dall'Europa pare si sia raffreddata invece l'intesa per l'accoglienza vediamo infatti che per quanto riguarda proprio i migranti la Francia non cede gentiloni sviluppi insufficienti vertici a Trieste da Macron e Merkel arriva la solita solidarietà il distingue il presidente francese no ai profughi economici ma anche noi non abbiamo fatto il massimo e poi l'equilibrio il premio italiano bene il direttorio a trema sugli sbarchi c'è bisogno di più di tanta più Europa andiamo andiamo poi di taglio basso parliamo dello ius soli gli italiani cambiano opinione e prevalgono i no rispetto a un anno fa e contro la cittadinanza il 53% diviso anche l'elettorato del PD la maggioranza degli italiani è contraria all'approvazione della legge dello ius soli almeno in questo momento storico la riforma al centro del dibattito politico sulla concessione della cittadinanza ai figli degli immigrati regolari nati in Italia non solo non è tra le priorità dei cittadini ma più la politica la mette in testa l'agenda più perde consenso e andiamo avanti sempre sulla questione migranti vediamo guerra agli scafisti la Libia schiera gli aerei a Tripoli anche le bombe contro i trafficanti di uomini libici i libici annunciano una stretta anche dal cielo per frenare le partenze poi il piano i jet da oggi avranno la possibilità di sparare nella capitale l'arrivo di Minniti vediamo poi per quanto riguarda i commenti ieri in Sicilia sono sbarcati in 477 un bambino trasferito in elisoccorso a Catania e poi Amnesty Amnesty si dice contraria ad ogni misura presa verso le ONG impegnate nei soccorsi UNCR bene codice di condotta per le organizzazioni non governative ma sia applicato a tutti i soggetti intanto da Bruxelles i socialisti chiedono a Tusk di unione dei capi di Stato e di governo dell'Unione Europea e lasciamo anche le pagine dedicate alle notizie sulla questione dei migranti mentre andiamo a parlare di economia arriva dall'Unione Europea l'ok ad uno sconto sul debito ma con le regole infatti vediamo il titolo sconto sul debito via libera dall'Unione Europea ma nelle regole flessibilità accolta la proposta italiana la Commissione ora però ridurre la spesa la svolta il governo potrà applicare la correzione dello 0,3% sul PIL già nel 2018 da Bruxelles la conferma della scelta della flessibilità ma a condizione che l'Italia acceleri la riduzione della spesa pubblica faccia calare il deficit PIL garantisca il rispetto delle regole del debito e poi andiamo di taglio basso Pado interviene sul taglio delle tasse e c'è bisogno di molta cautela il ministro cauto all'assemblea dell'ABI che si è svolta ieri a Roma non è sempre scontato l'impatto su crescita e occupanti a questa stessa assemblea a cui erano presenti anche gli istituti di credito del Vallo di Diano Banca Montepruno e BCC di Buonabitacolo erano presenti anche il governatore della Banca d'Italia Visco e naturalmente il presidente dell'ABI Patuelli vediamo Visco che parla dell'emergenza bancaria che ritiene finita ora gli istituti però riprendano ad investire intanto però Patuelli chi ha sbagliato deve pagare ma niente clima da caccia alle streghe quindi per Patuelli chi è responsabile delle crisi della crisi bancaria che si è verificata insomma diversi istituti bancari ricordiamo hanno dovuto subire la crisi si chiede che queste persone paghino e poi lo scenario il flusso di crediti deteriorati e tornati a livelli precedenti alla crisi ma sono stati comunque tanti i temi trattati durante l'assemblea dell'ABI lasciamo questo argomento andiamo ora sulle pagine del mattino di Salerno partiamo dalla prima pagina andiamo direttamente a Salerno dove il comune ha dato il via libera per l'istituzione del registro per il testamento biologico ricordiamo che è un registro dove chi vuole può lasciare la propria decisione di ipotizzare una eventuale eutanasia in caso di una malattia grave o comunque non curabile vediamo il titolo testamento biologico c'è il registro proposta del sindaco la giunta approva la delibera ora però serve il via libera del consiglio sarà possibile comunicare trattamenti sanitari a cui ci si intende sottoporre non è eutanasia praticamente è la rinuncia eventualmente alle cure o comunque ai trattamenti di tipo all'attaccamento alle macchine insomma quindi un po' il per evitare insomma una lunga agonia andiamo avanti un'apposita normativa nazionale manca a livello nazionale appunto a livello Italia ma ci sono la costituzione la carta dei diritti fondamentali dell'unione europea oltre che la convenzione sui diritti umani e la biomedicina di Oviedo del 1977 ed è proprio attraverso questi articoli che è possibile che è possibile quindi istituire all'interno dei comuni un registo per i testamenti biologici andiamo avanti la storia il precedente di Giffoni siamo stati un esempio anche le pagine di Salerno del mattino di Salerno parlano della questione migranti lo abbiamo detto è in arrivo un nuovo sbarco di migranti al porto di Salerno e vediamo SOS migranti terzo sbarco in un solo mese dovrebbero arrivare a Salerno e 935 che arriveranno domani sulla nave di Medici senza frontiere andiamo di fondo la scuola licei il valzer dei presidi ecco i nomi per quanto riguarda i licei della Salernitano e poi l'università uso improprio dello smartphone nei guai il prof continuiamo ieri sera grande concerto di Tiziano Ferro all'Arechi di Salerno l'urlo dell'Arechi per Tiziano Ferro mentre il fuoco distrugge la collina infatti vediamo l'immagine dello stadio Arechi stracolmo per ascoltare il concerto di Tiziano Ferro e poi vediamo l'immagine dei roghi che distruggono il bosco delle colline circostanti Salerno cambiamo argomento Fornelle nuovo giallo nel DNA la perizia che fa sperare Luca tracce organiche sotto l'unghia della vittimatura De Marco i legali dell'assassino Reo Confesso questa potrebbe essere la prova che Gentile ha lottato per difendersi e poi le indagini di ele e dubbi sull'incidente un ingegnere stradale ricostruirà la dinamica andiamo di taglio basso vediamo come chiude questa prima pagina del mattino di Salerno per il calcio debutto salernitana al volpe soltanto 13 i giocatori arrivati per i primi allenamenti e poi il progetto Grand Tour Salerno patto turismo con la costiera andiamo ora nelle pagine interne parliamo proprio dello sbarco dei migranti del nuovo sbarco di migranti previsto per domani al porto di Salerno vediamo il titolo l'emergenza domani arriva un'altra nave a Salerno SOS migranti uno sbarco ogni 10 giorni 935 arriveranno all'alba a bordo della Vos Prudens ci sono richiedenti asilo l'accoglienza a minori sistemazione sempre più difficile non abbiamo notizie circa la presenza di minori non accompagnati sappiamo che ci sono dei bambini ma è un'informazione che non dirime la questione queste sono le parole di Rosario Caliulo direttore del settore politiche e sociali del comune di Salerno la nostra esperienza spiega Caliulo ci dice che è difficile che ci siano bambini piccoli non accompagnati la difficoltà nell'individuare i minori sta in quella fascia di età adolescenziale e con questa pagina ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria riprenderemo tra pochissimo per continuare a sfogliare le pagine dei nostri quotidiani restate con noi bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa una seconda parte ampiamente dedicata all'emergenza incendi che si sta registrando in tutta la regione Campania e il Vallo di Diano compreso partiamo intanto dalla prima pagina del quotidiano la città vediamo il titolo di apertura aiuto il fuoco sull'uscio di casa casa distrutta a Pugliano altre due abitazioni sgombrate rischio di evacuazione anche a San Rufo a Corbara costruzione salvata in extremi i civici del fuoco raddoppiare i turni di lavoro questo è il titolo di apertura come dicevamo quindi ampio spazio dedicato proprio all'emergenza in genti boschivi che stanno distruggendo ettari ed ettari di terreno e di vegetazione in tutta la regione Campania la provincia salernitana come vediamo non è esclusa da questa emergenza e andiamo avanti cambiamo per il momento argomento nella fotonotizia Silerno Sistemi non se ne occupa l'acqua c'è e si perde che spreco richiesti continui sacrifici ai cittadini ma una falla in azione in zona orientale non induce gli addetti ad una riparazione attesa da lungo tempo quindi l'altra emergenza è l'emergenza siccità dovuta alle scarsissime piogge peraltro sia anche dei mesi invernali ma soprattutto anche in questi mesi tra primavera ed estate ancora non ha piovuto quindi sempre più emergenza siccità e crisi idrica andiamo avanti continuiamo ci spostiamo di spalla politica e camorra Anastasio a giudizio con altri otto imputati e poi commissione IMS falso cieco nei guai tre noti medici al molo Manfredi intanto domani è previsto l'arrivo di altri 934 migranti per le notizie nei box in alto Salernitana Pelagotti si allontana ancora poi per il cerca storie Pietro Sedotto dall'agro e da Paganini in 158 tappe lungo viaggio nei comuni del Salernitano andiamo di taglio basso parliamo del concerto di ieri sera alla Rechi di Tiziano Ferro un concerto attesissimo che ha visto la partecipazione anche di tantissimi valdianesi che ieri erano a Salerno allo stadio a Rechi per assistere all'esibizione del cantautore vediamo la Rechi invisibilio per Tiziano Ferro immenso abbraccio dei 30 mila al cantautore questa è la prima pagina del quotidiano la città ora andiamo ad approfondire i temi principali partendo proprio dai numerosi roghi che si stanno verificando e registrando in tutta la provincia salernitana con la distruzione di ettari ed ettari centinaia e centinaia di ettari di vegetazione lo abbiamo visto anche dalle pagine del mattino la foto del concerto di Tiziano Ferro con sullo sfondo proprio un altro incendio boschivo e vediamo il titolo le fiamme distruggono una casa a Pugliano altre due abitazioni sono poi state sgomberate rischio di evacuazione anche a San Rufo a Corbaro una costruzione è stata salvata dai proprietari e dai vicini la piaga dei roghi colpisce anche altre zone della provincia salernitana in città incendio sulla collina alle spalle dell'ospedale poi vediamo alcune immagini di alcuni dei roghi che si stanno si sono registrati nella giornata di ieri innanzitutto vediamo sopra qui il borgo di San Severino di Centola che ieri anche è stato interessato dalle fiamme ancora questo il rogo di Salerno mentre altro pericolo quello soprattutto l'incendio che si è verificato che si sta verificando a San Rufo che in questa foto vediamo all'ambito è raggiunto anche la strada statale 166 la strada che collega il Vallo di Diano ai monti alburni quindi ricordiamo che gli incendi oltre alla distruzione della vegetazione e quindi alla distruzione dell'ossigeno potrebbero in inverno anche provocare il dissesso idrogeologico quindi anche spegnendo le fiamme insomma il pericolo non si ferma vediamo andiamo avanti vediamo per quanto riguarda invece gli incendi che interessano direttamente la parte sud della provincia di Salerno quindi il nostro territorio ieri Auletta è stato interessato nel pomeriggio di ieri tra Auletta e Buccino un incendio con 700 piante di ulivo andate in fumo l'emergenza è scattata intorno alle 15 tour de force per gli uomini della comunità montana Tanagro Alto e Mediosile e poi a San Rufo da una settimana le montagne del Vallo di Diano ormai continuano a bruciare con circa un centinaio di ettari di bosco e macchia mediterranea che sono stati distrutti dai rughi partendo da Teggiano quindi le montagne che collegano le montagne ridosso tra Teggiano e Monte San Giacomo poi si è spostato verso nord coinvolgendo restando sempre da Teggiano ma coinvolgendo anche il comune di San Pietro Altanagro con la montagna del crocifisso che è andata in fumo per poi raggiungere il San Rufo con una vicinanza molto pericolosa alle abitazioni e andiamo avanti con questo tema vediamo la campagna devastata sotto accusa la regione i capigruppo sollecitano le dichiarazioni dello stato di emergenza la giunta ottiene l'invio di un altro Canadair tre procure aprono le inchieste ricordiamo le procure di Napoli Torre Annunziata e Nola che hanno aperto le inchieste accertando peraltro la natura dolosa degli incendi che hanno devastato e distrutto il parco del Vesuvio lasciamo questo argomento lasciamo il tema per il momento lasciamo il tema incendi entriamo ora sulle pagine dedicate alle notizie della provincia di Salerno partendo dalle notizie sulle pagine di Agropoli Capaccio dove troviamo una notizia che interessa anche il Vallo di Diano vediamo infatti si parla dell'acqua con il presidente del consorzio di bonifica Biagio Franza che ipotizza di stacchi forzati ai morosi pugno duro del consorzio di bonifica con gli utenti che non hanno saldato i conti riprenderanno oggi le operazioni di distacco delle forniture idriche a carico degli utenti morosi a comunicarlo il commissario straordinario del consorzio di bonifica di Pessun Biagio Franza ho dato disposizione ai nostri addetti di procedere con una nuova fase di controlli con relativi distacchi dell'acqua potabile e ad uso in rigua agli utenti che hanno debiti pregressi con lente così come a carico di coloro che hanno aderito alla rateizzazione ma dopo aver pagato le prime rate in alcuni casi addirittura solo la prima hanno ricominciato a non onorare le bollette mensili quindi pugno duro dal consorzio e dal commissario Biagio Franza andiamo ora invece sulle pagine dedicate alle notizie del Vallo di Diano sulla pagina Vallo di Diano vediamo il titolo si parla ancora dell'emergenza personale medico della richiesta di personale medico per l'ospedale vediamo manca il personale reparto di eccellenza rischia di chiudere la gastroenterologia all'avanguardia in cure e diagnosi il primario marmo fondamentale investire nella ricerca 3.000 esami all'anno unico reparto in campagna che effettua l'esame endoscopico con doppio pallone un numero sempre crescente di pazienti che arrivano non solo dal Vallo di Diano ma anche da tutte le province della campagna e da altre regioni d'Italia su indicazione di medici di altre strutture ospedaliere questo il reparto di gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'ospedale Luigi Curto che nonostante la carenza di medici in servizio ci sono soltanto un dirigente medico di uno specialista ambulatoriale una delle eccellenze dell'ospedale valdianese andiamo avanti di taglio basso Sanza e volontari recuperano una vecchia strada 150 tra giovani ed adulti si sono ritrovati sulla vetta del monte Cervato per la seconda giornata di volontariato per Sanza domenica scorsa infatti ricordiamo l'amministrazione comunale e altri giovani e adulti hanno ripulito il sentiero che da Sanza porta alla cima del monte Cervati che poi è il sentiero che percorre ogni anno la Madonna nel salire quindi nell'essere portate insomma nella cappella sulla vetta del Cervati e poi di discesa a Sanza in occasione della festa della Madonna della Neve andiamo avanti Santerstenio la Monte Pruno all'Assemblea dell'ABI la Banca Monte Pruno ha preso parte ieri all'Assemblea dell'Associazione Bancaria Italiana che si è svolta a Roma nella mattinata di ieri in rappresentanza dell'istituto c'erano il direttore generale Michele Albanese e il vicepresidente Antonio Cignillo è stato un interessante momento di confronto hanno dichiarato all'unisono i due dirigenti della Banca Monte Pruno e si è discusso del momento di difficoltà che stanno attraversando le banche ed emersa una volontà comune per cercare di superare nel migliore dei modi questo momento di crisi la Banca Monte Pruno fin dalla prima ora ha preso parte alla nascita del gruppo Cassa Centrale Banca perché ricordiamo che ieri si è parlato durante l'Assemblea anche della riforma del credito cooperativo che ha quindi che vede la costituzione di due gruppi bancari il gruppo Ecrea e Cassa Centrale Banca la Banca Monte Pruno ha aderito a Cassa Centrale Banca è stata una delle banche che insomma genitrice di questo progetto che ha da sempre da più da diversi anni collabora proprio con Cassa Centrale Banca e vediamo ho trovato molto interessante ha sottolineato Michele Albanese gli spunti forniti dal governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco e dal presidente dell'ABI Antonio Petruelli siamo d'accordo sulla linea per quanto riguarda appunto anche la questione dei gruppi bancari di Cassa Centrale Banca andiamo avanti lasciamo le pagine del quotidiano la città e andiamo ora sulle cronache vediamo i titoli di apertura dalla prima pagina arriva l'esercito quindi anche le cronache apre con l'emergenza incendi boschivi che sta interessando tutta la regione campania ricordiamolo non soltanto il Vallo di Diano e la provincia sud sono tantissimi i centri che sono interessati dai rughi vediamo ecco perché gli incendi dilagano la campania va a fuoco e De Luca va al concerto di Morricone scoppia la polemica la regione ha smantellato la protezione civile vigili del fuoco pochi e mal pagati e poi vediamo le immagini che stanno che cominciano a girare insomma in questi giorni sul web vediamo la giornata a Salerno da Fornea a Pastena fiamme spaventose a San Cipriano migrante in campo per spegnere l'incendio ancora anche a Roccapiemonte brucia il Monte Caruso evacuate tre famiglie cambiamo argomento andiamo a Salerno paura per Angelo Di Gennaro operato d'urgenza a cuore aperto e poi bando del 118 la procura apre l'inchiesta Calderone non risponde alle domande esclusività delle ambulanze la commissione dell'ASL ha verificato il legale del patron di croce Amica e delle altre associazioni di cui Cronache ha chiesto se esistessero legami minaccia a querele ma non chiarisce le vere posizioni perché e ancora vediamo gli altri argomenti principali per il quotidiano Le Cronache sarà faccia a faccia tra il boss Biagio Giffoni e il pentito Sabino Di Maio processo al clan della Piana del Sele a Capaccio il PD va con Palumbo ma il partito si spacca e a Nocera inferiore De Nicola eletto presidente del Consiglio per quanto riguarda le notizie in breve a Battipaglia crollo di via Baratta una fake news e poi Mercato San Severino somma nomina un suo vice Luciano Lombardi a Cava gruppo Silva accordo evitata la liquidazione questa è la prima pagina del quotidiano Le Cronache andiamo avanti continuiamo a sfogliare il quotidiano e vediamo quali sono gli altri argomenti in primo piano si parla dell'emergenza a Roghi e l'abbiamo visto che è il titolo di apertura andiamo proprio ad approfondire queste pagine questi temi con vediamo il titolo la regione brucia nello di Nardo la nota dei vigili del fuoco sarà smentita la convenzione c'è tutti via in 72 ore questi tempi che Vincenzo De Luca annunciava Urbi e Torbi qualche mese fa presentando il piano di evacuazione del Vesuvio ed invece è bastato un incendio per mettere K.O. l'intero sistema di protezione civile regionale se fosse stato qualcosa di ancora più serio dice il consigliere regionale di Forza Italia Severino Nappi saremmo stati davvero messi male lo scenario è desolante spiega Nappi un degrado totale non è un caso che De Luca taccia qui di attacchi alla regione vediamo smantellata la protezione civile i vigili del fuoco erano stati avvisati mentre il Vesuvio andava a fuoco il governatore era da Monricone Severino Nappi altro che piano di evacuazione qui stiamo al degrado e continuiamo sempre sulle pagine dedicate a questa emergenza incendi perché continuano anche gli attacchi anche alla regione per vediamo arriva da Grillo che fine ha fatto la voce grossa di De Luca e poi parla Celano friggitori che creano danni indescrivibili parla anche Amatruda dirigenti capaci esautorati e ancora arriva l'esercito vertice in prefettura verrà ampliata la presenza dei militari nelle situazioni più critiche in un'ottica di prevenzione le inchieste tre le procure che indagano l'abbiamo detto torre annunziata Nola e Napoli l'ipotesi è di ingendio doloso per ora a carico di ignoti e poi PM10 elevato le polveri sottili misurate con strumenti dall'ARPAC con risoluzione oraria mostrano concentrazioni elevate insomma davvero una crisi o un'emergenza che sta un po' preoccupando tutta la regione e con questo argomento con quindi con l'emergenza incendi boschivi chiudiamo la nostra rassegna stampa io vi ricordo alle 13.45 l'appuntamento con il nostro TG grazie per averci seguito auguro a tutti una buona giornata